Poesia, sembra che non ci sia, poi l'incontro... Secondo classificato, mortezza Natifi Nezzani, con quando riusse a termine la gentilezza. Edito da Joker. Bravissimo autore, veramente eccezionale, con il suo libro ci affascina e ci ammala, gli regola motivazione, con quando riusse a termine la gentilezza, motivazione, grida di disatturazione contro le guerre e le ingiustizie sociali, in ogni parte del mondo, questo è il contenuto lirico di quando riusse a termine la gentilezza, perché guerra e soccusi sono le antiforme della gentilezza che il poeta ci vuole propugnare. Grazie. 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 Grazie tanto intorno ai portatori, alla signora e a voi che avete partecipato. Il titolo del libro è un mezzo versetto di August, il più grande poeta persiano di cui influenzano anche i ghiote che a scrivere divano orientali, divano occidentali. una guerra e il libro si divide in 12 mesi. Ogni mese succede una guerra, una distruzione e purtroppo io poi in fondo a ogni poesia dico che il popolo, cioè il popolo chiesta bene, la gente chiesta bene, è indiferente verso queste guerre. non lo so poi se qualcuno legge se il messaggio è un messaggio che arriva o non può solamente rimanere con la poesia. Grazie. Applausi. Grazie. Grazie. Grazie.